È partita da Milano la seconda edizione di Diamo Voce al Futuro, campagna di sensibilizzazione sui tumori ematologici promossa da Janssen Oncology e patrocinata dall'Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma che rappresentano quasi l'8% di tutti i tumori maligni e secondo le stime riferite al 2020 sono stati responsabili di circa 29.000 nuovi casi in Italia. Fra gli obiettivi dell'edizione 2022 di Diamo Voce al Futuro fari puntati sui tumori ematologici rari fra cui l'amiloidosi da catene leggere come spiegato dal professor Giovanni Palladini. L'amiloidosi AL è una malattia causata dalla deposizione nei tessuti di frammenti di anticorpo prodotti da un piccolo tumore delle plasmacellule. È una malattia rara in cui il tumore non si manifesta direttamente ma danneggia gli organi a distanza attraverso la produzione di questa proteina tossica e può dare danno del cuore, del fegato, dei reni con un carico molto pesante per i pazienti e una necessità assoluta di diagnosi sicura e precoce. Non meno importanti gli studi sulla macroglobulinemia di Waldenström evidenziati dalla dottoressa Alessandra Tedeschi. La macroglobulinemia di Waldenström è un disordine che fa parte dei linfomi non-Hodgkin a basso grado, malattie indolenti e si caratterizza per la presenza di cellule tumorali clonali e dalla presenza di una proteina IgM che dà delle caratteristiche particolari alla malattia. Come tutti i disordini indolenti può essere solo osservata, non trattata quando la malattia è asintomatica, mentre nel momento in cui diventa asintomatica vuoi per l'ingrandimento dei linfonodi o per disordini legati alla componente monoclonale necessita di trattamento. E la dottoressa Matilde Cani a raccontare infine il rinnovo del patrocinio alla campagna da parte di AIL, Associazione Italiana Contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. Il tema della sensibilizzazione sui tumori del sangue è importantissimo ed è una delle attività istituzionali di AIL da sempre, di sostenere i bisogni dei pazienti che devono affrontare questo tipo di malattie, dei loro familiari e dei loro caregiver e di favorire la ricerca medico-scientifica con l'obiettivo di ottenere cure sempre più mirate, personalizzate, efficaci e risolutive. L'avvento dei farmaci biologici è rappresentante un cambio di passo nell'innalzamento del livello delle cure delle malattie immunomediate o autoimmuni, patologie conseguenze di una reazione anomala da parte del sistema immunitario, che scatenano fenomeni patologici che vanno poi a interessare molti distretti del corpo umano. Delle malattie immunomediate in campo gastroenterologico e dello sviluppo dei farmaci biosimilari in questo ambito parla Maurizio Vecchi, professore di gastroenterologia all'Università di Milano. La parte gastroenterologica delle malattie cosiddette immunomediate, perché sono appunto mediate da un disturbo del sistema immune, sono la malattia di Crohn e la colite ulcerosa, due malattie che colpiscono l'apparato digerente, in particolare la colite colpisce il colo, nella malattia di Crohn può colpire tutto l'apparato digerente, che in genere insorgono nell'età del giovane adulto e poi accompagnano la vita di questi pazienti per tutto il decorso, perché sono malattie croniche, perché non sappiamo una causa precisa e quindi non abbiamo una terapia che le possa definitivamente debellare. Quindi il fatto che negli ultimi anni si siano sviluppate delle terapie che sono particolarmente efficaci nel dominare le fasi acute di malattia e nel rimettere la malattia in quiescenza a talora anche per periodi prolungati è assolutamente importante, assolutamente innovativo e devo dire di grande valore per noi gastroenterologi. In questo ambito la Lombardia è tra le regioni maggiormente virtuose per la difesa della libertà prescrittiva, per una politica sanitaria che vada maggiormente incontro alle esigenze dei malati, come spiegato da Silvia Ostuzzi, rappresentante dell'associazione pazienti Alomar. Il lavoro svolto con Regione Lombardia per le malattie immunomediate rappresenta uno scenario di condivisione e di dialogo fondamentale. Ci permette come associazioni che rappresentano appunto le persone di tutte le età che in Lombardia affrontano la grande sfida di una malattia immunomediata cronica di portare la loro voce e la loro prospettiva in questo tavolo di scambio con i clinici e le istituzioni. La prima esigenza che i pazienti sentono è quella di avere informazioni corrette e affidabili. L'azione delle associazioni è anche quella di effettuare opera di contrasto alle fake news. È fondamentale potersi orientare in modo affidabile, questo è anche uno dei nostri compiti. Inoltre la persona vive spesso un profondo smarrimento e necessita di un accompagnamento anche umano che a volte dalle associazioni arriva proprio da persone che hanno vissuto quella stessa esperienza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.